Travestiti da operai entrano nel cantiere, salgono su due scavatori, tolgono i GPS e tentano di caricarli su un auto articolato. È successo nel quartiere di San Liberale a Treviso sabato pomeriggio. I tre stavano cercando di mettere a segno il colpo da ben 300.000 euro, tanto il valore dei mezzi, quando una pattuglia della polizia ha notato dei movimenti sospetti nel cantiere e ha sorpreso i malviventi nell'atto del furto. Si tratta di un 60enne di Rosano, un 39enne di Foggia e un 36enne di Arzignano, arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Al momento del fermo, uno di loro per sottrarsi all'arresto è salito nella propria auto e fuggito a tutta velocità per le vie della città, inseguito dalle pattuglie della polizia che sono state ripetutamente speronate. Messo alle strette ha tentato la fuga a piedi, ma a nulla è servito. I poliziotti lo hanno bloccato e fermato. I due escavatori sono stati poi restituiti alla ditta. Grazie. Grazie.